Ciao a tutti e benvenuti, Rassegna Stampa, Rassegna Stampa pre-conferenza stampa del nostro allenatore alla vigilia di Spezia Milan. Oggi i piatti forti della Rassegna Stampa, se vogliamo, sono due, uno il mercato e uno il derby. Il mercato, con quello che scrive l'Audisa sulla Gazzetta dello Sport, circa l'interesse del Peugee perché sì, scenari in movimento a gennaio, possibile l'arrivo di uno fra Adli, che è già nostro ma in prestito al Bordeaux, o Fevre del Brest, o tutti e due uno dei due e poi da monitorare la situazione di Chessy. Scenario rispettabilissimo, la firma di l'Audisa da questo punto di vista è un'importante garanzia ma difficilmente spendibile sul piano tecnico come considerazione, nel senso che sia Adli che Fevre hanno caratteristiche molto diverse da quelle di Chessy, per cui se il Milan dovesse privarsi di Chessy a gennaio dovrebbe in teoria prendere un giocatore delle sue caratteristiche. Tenendo conto del fatto che quello che è accaduto l'anno scorso invece dimostra il contrario, cioè che il Milan, i suoi giocatori, fino all'ultimo del giorno di contratto, li trasforma in una risorsa, li tiene con sé e cerca di tirar fuori da ogni singolo giocatore il meglio per il Milan che è al di sopra di tutto, che è al di sopra di qualsiasi situazione e destino personale, per cui resto della mia pur evidentemente rispettando quanto scrive la Gazzetta dello Sport di oggi. Il derby invece è sul Corriere dello Sport con l'intervista di Cialanoglu, ma ci arriviamo, lasciatemi salutare e introdurre OneFootball che con le sue notizie, i suoi approfondimenti, e le sue curiosità, tiene compagnia ogni giorno a tantissimi sportivi, grande brand OneFootball, ma soprattutto grande app, la app di OneFootball è gratuita, la trovate nella descrizione di questo video e su OneFootball trovate sempre gratuitamente gli highlights di 12 campionati nazionali, fra cui la Serie A italiana, approfittatene. Cialanoglu dice che se segnerà il derby esulterà. Cialanoglu è giocatore che continua a stimare dal punto di vista tecnico, per quanto gli ho visto fare nel Milan, più che per quello che gli sto vedendo fare attualmente, un po' fuor d'acqua, un po' fuori ruolo nell'Inter. Continua a stimare tecnicamente, ma umanamente è una sorpresa ogni giorno. Questa considerazione, se segno al derby esulto, è la dimostrazione che Cialanoglu è stato quattro anni al Milan, ma di fatto, umanamente, nulla ha dato e nulla ha preso. Vedete, l'8 luglio, giorno del raduno, Stefano Pioli ha fissato un criterio per i nuovi arrivi al Milan. Stefano Pioli ha detto, vogliamo, evidentemente Stefano Pioli è un tutt'uno, con la dirigenza, con Ivan Gazidis, che oggi ha rilasciato una bellissima intervista a 7 del Corriere della Sera, con Ivan Gazidis, con Paolo Maldini, con Ricchi Marsala. Stefano Pioli dice, vogliamo giocatori che abbiano voglia ed entusiasmo di venire al Milan, vogliamo giocatori che siano contenti di venirci a dare una mano e a inserirsi in questo gruppo. Stefano Pioli ha tradotto una linea, ha dato una linea, ha spiegato su chi si sarebbe indirizzato sul piano tecnico e umano il Milan. Nell'estate 2017, che è un po' il mio personalissimo tallone d'Achile, io considero una medaglia d'oro l'estate del 2006, una medaglia di piombo l'estate del 2017, nel 2017 invece bastava comprare, chiunque, la qualunque, bastava fare il contrario di quello che si era fatto fino a pochi mesi prima, senza criteri, comprare. E siamo arrivati a queste situazioni di carattere umano che francamente lasciano non l'amaro in bocca troppo, così lasciano un po' tra l'infastidito e il dispiaciuto. Va bene, esulta pure, vedremo. Adesso occupiamoci invece dell'intervista di Ivan Gazidis, molto bella, molto importante, Ivan Gazidis a 7 del Corriere della Sera, dichiara che sembra che le cure stiano avendo effetto, che si sta impegnando molto fra cure e lavoro, belle notizie. Parla anche di UEFA, dice che il fair play finanziario deve essere uguale per tutti, qui si gioca la credibilità dell'UEFA. Ivan Gazidis è sempre stato molto rispettoso dell'istituzione UEFA, è sempre stato molto attento, molto introdotto, molto organico, ripeto, molto rispettoso. Scusate la ripetizione. Qui, con poche parole scolpite, però, richiama la UEFA a essere fedele ai propri principi, fedele a se stessa. La UEFA deve essere credibile. E dal momento che tutto il mondo sa, fin dagli sportivi più piccoli, che il Paris Saint-Germain è una cosa, il resto delle squadre europee sono un'altra, è ora che, rispetto a queste parole, ugualmente rispettose ma ferme e chiare, la UEFA prima o poi ci dica qualcosa. Perché andare avanti con questo tran-tran, francamente, si vuole il calcio aperto a tutti, un calcio inclusivo, il calcio del popolo, il calcio della gente, invece il calcio di pochi ricchi in Europa in questo momento. E quindi credo che la UEFA, da garante, debba non soltanto dire qualcosa, ma soprattutto intervenire, con regole diverse. Anche questo interesse del PSG perché sì. Quanti giocatori deve avere, caro Presidente Cefri, nel PSG ogni anno? 50? 60? Deve disturbare l'attività di ogni squadra sempre e comunque? Possibile che ci sia questa sperequazione, possibile che ci sia questo dislivello? Il Presidente dell'UEFA è chiamato a dare regole alla giungla perché il calcio, per carità, totalmente regolamentato non lo è mai stato, ma oggi è molto, molto, molto più giungla che regole e quindi bisogna riequilibrare le cose. La rassina stampa di oggi si sofferma molto anche sull'identificazione di Davide Gabrielli, il tifoso che ha fatto quello che ha fatto prima di Juventus-Milan, bellissima l'intervista di Christian Carrembue sulla stampa, ricordiamo che siamo dentro alla rassegna stampa del 24 settembre 2021, Carrembue è lo già Mignon, trova impeccabile la sua reazione, il suo post su Instagram e chiede alle istituzioni, a tutte le istituzioni nazionali e sovranazionali sportive il pugno duro, non solo protocolli. Questo è quello che dice Carrembue e questo è ciò su cui mi trova, ampiamente, clamorosamente e nettamente d'accordo. La Gazzetta dello Sport oggi dedica ampio spazio al Nuovo San Siro, la Gazzetta dello Sport mette nero su bianco che con il Nuovo Stadio Milano e Inter avrebbero 80 milioni di ricavi in più l'anno. Sapete che cosa vuol dire 80 milioni di ricavi in più l'anno per Milano e Inter? Sapete quanto mercato si può fare? Non pensate che il discorso del Nuovo San Siro sia un dettaglio, sia un fastidio, sia un orpello, è fondamentale. Senza Nuovo San Siro, senza Nuovo Stadio, Milano e Inter ad alto livello in Europa non ci torneranno mai più. E dal momento che ho sentito, non voglio fare campagna elettorale, non mi interessa la campagna elettorale e la politica. Mi interessa il Milan, il calcio, il futuro, il campo. Dal momento che ho sentito che c'è un gruppo politico che dice lasciamo San Siro così com'è e facciamo che a San Siro ci sia anche lo sport di base, lo sport popolare, lo sport diffuso, benissimo, basta saperlo. Se dovremo assistere a San Siro a bellissime, legittime, accurate, romantiche e sensibili partite di giovani e non più di Milano e Inter in Champions League ad alto livello, basta saperlo. Basta che ce lo dicano e basta che ne prendiamo atto. Però la tarantella dei rinvii, delle alleanze, delle dichiarazioni da campagna elettorale ha anche stancato, perché sono due anni che a Milano c'è un miliardo e duecento milioni di euro di investimenti fermi per i palleggi della politica milanese, basta. E anche basta. La gazzetta dello sporlo fa chiaramente intendere le edizioni di oggi. Ciao a tutti, ci vediamo e ci sentiamo dopo la conferenza stampa del nostro allenatore Stefano Pioli.